Trasferimenti dalla sera alla mattina in fretta e furia. Il duro attacco ai vertici della ASL, direttore sanitario dell'ospedale dell'Annunziata, arriva dalla UIL. Il direttore sanitario di presidio, preposto ad organizzare e individuare gli spazi fisici, deve garantire prestazioni sanitarie idonee e sicure per pazienti e operatori, scrivono da sindacato, in maniera almeno superficiale, ha disposto i trasferimenti delle attività di urne ambulatoriali. Perciò la ginecologia ha ricevuto l'ordine di trasferimento presso i locali dell'ex diabetologia, sempre dalla vecchia ma il primo piano, istanze non fornite dai normali livelli di sicurezza, ossigeno, riscaldamenti, prese elettriche a norma, igiene e decenza. Allo stesso modo la USD di oculistica dovrà spostarsi nell'ex reparto di chirurgia della Labolino, che però non è stato adeguato alle esigenze di un servizio di oculistica, che per esempio necessita di lavandini nelle stanze, di un impianto elettrico particolare, utilizzando quotidianamente numerose attrezzature. L'oncologia, continua la UIL, come avevamo anticipato, si sta trasferendo in fretta e in furia negli spazi che precedentemente ospitavano l'UTIC, senza che siano garantiti i presidi necessari alla preparazione di farmaci oncologici, la K, ad esempio, e all'assistenza di questo particolare tipo di pazienti. Per l'endoscopia digestiva non è stata ancora trovata una sistemazione. Con la presente, conclude la UIL, si declina ogni responsabilità da parte degli operatori per eventuali inefficienze derivanti dalla pessima gestione.